Un appuntamento di fede e tradizione è quello del pellegrinaggio delle reliquie dei Santi Medici e la riapertura al culto dell'antico santuario di Via di Mezzo nella città vecchia a Taranto. La processione, che solitamente si tiene al mattino del 26 settembre, quest'anno non ci sarà a causa delle misure anti-Covid, per sottolineare l'invocazione dell'intercessione dei Santi per questa pandemia. Il 25 settembre alle 17 giungeranno le reliquie maggiori dei Santi Fratelli Medici provenienti dal santuario di Oria. Saranno poste nell'antico santuario di Via di Mezzo che riaprirà al culto in maniera stabile. La chiesetta è rimasta chiusa per anni, circondata da numerosi edifici in stato di abbandono, ma adesso tornerà a nuova vita. Le reliquie arriveranno via mare, su una motovedetta della Capitaneria di Porto, sulla banchina Garibaldi ci sarà la fanfara della Marina Militare, poi la liturgia della parola con la messa presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Filippo Santoro, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Al termine lo stesso Arcivescovo traslerà le veneratissime reliquie nell'antico santuario dei Santi Medici in Via di Mezzo, a pochi metri dal luogo dello sbarco. All'arrivo i bambini con le loro famiglie residenti nella zona consegneranno le chiavi all'Arcivescovo che riaprirà l'antico santuario. Alle 23 infine la partenza delle reliquie nelle vicinanze della banchina Garibaldi e poi sabato 26 settembre la festa dei Santi Medici Cosma e Damiano presso il centro sportivo dell'Oratorio di San Giuseppe. Il 2020, che è contrassegnato da questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non ci fa rinunciare ai festeggiamenti solenni di San Cosimo e Damiano, anzi ci fa vivere un evento importantissimo proprio come atto di affidamento alla protezione potente di questi due Santi. Sappiamo quanto questi momenti siano momenti importanti per la città, soprattutto per la città vecchia. Sono momenti di raccolta, momenti in cui ci si unisce nella preghiera, quindi sono momenti importanti da sottolineare e da appoggiare in tutti i modi.